fermo! faccia a terra! mani dietro la schiena! sapete tutti come stanno le cose e nel giro di poche ore in paese non solo tutti sapranno che c'è qualcuno sebbene che tuo padre è morto e che i morti non tornano cosa vuole dire che mirko è morto a causa mia lo capisce che io sono una vittima di tutta questa storia o forse pensa che io c'entri qualcosa ma ti avverto sta attento ciao luigi è ora di rientrare in collegio vai pensi sia matta no penso che tu abbia sbagliato l'andante prendo in mano la situazione cercherò di capire cosa sta succedendo la posizione del corpo la postura lo vedi com'è naturale che vuoi dire io non dico niente qui il poliziotto sei tu e l'altra bambina signor la valore dov'è